Oggi per la rubrica lavorare con i video parlo a una categoria di professionisti che già lavorano online sto parlando dei networker. Questo è il momento di fare lead generation, questo è il momento di prendere e acquisire contatti ho detto prendere e acquisire contatti, non vendere dei prodotti perché vuoi o non vuoi in questo momento è difficile che una persona comprerà ma questo non vuol dire che tu non possa fornirgli delle informazioni o dei consigli utili al fine di creare rapporto con lei quindi il consiglio che ti do in questo momento è di creare una serie di video alcuni destinati a nuovi potenziali clienti per fornire supporto, informazioni relative al prodotto che stai commercializzando ma senza venderlo mentre altri destinati ai clienti che già hai acquisito perché un video ti permette sia di acquisire nuovi potenziali clienti ma anche di fidelizzare quelli che già hai acquisito bene per oggi è tutto, per qualsiasi dubbio o perplessità scrivilo nei commenti e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti